Con l'apertura ufficiale della propria sede e divento operativa a Favara, l'associazione socio-culturale-politica Liberamente Favara. Quest'ultima è stata fondata dal portavoce cittadino del PDL di Favara, ex assessore comunale Michele Mondalbano, ed Antonio Nobile, ed è presieduta da Nadia Mattina. Numerosi rappresentanti delle associazioni che operano sul territorio, presenti alla cerimonia di inaugurazione. Momento a cui hanno partecipato anche le istituzioni politiche locali, con in testa il sindaco di Favara, Rosario Manganella, e il deputato regionale, Nino Bosco. La presenza dell'onorevole favarese esigla la collaborazione che l'associazione Liberamente instaura con la corrente di riferimento al segretario nazionale del PDL, Angelino Alfano, a benedire i locali di Via Italia 42, Fra Giuseppe Maggiore. Qual è l'auspicio per questa nuova associazione? L'auspicio è l'auspicio che tutti noi ci diamo come liberi cittadini, come gente impegnata nel sociale, nella politica, nella famiglia. È l'auspicio di poter avere e poter lavorare per una società che sia migliore, più giusta, più equa. Infatti vogliamo lavorare affinché ci siano delle nuove proposte per quanto riguarda le povertà che già conosciamo, ma anche le nuove povertà, le povertà del terzo millennio, che oggi rappresentano un dramma soprattutto per la nostra città. Il primo impegno sarà la raccolta dei viveri, che la organizzeremo dalla prossima settimana. Grazie di tutti i ragazzi che sono venuti a trovarci, di tutte le persone, e spero vada tutto al meglio. Ci nasce una nuova associazione culturale ed è un fatto significativo per la nostra città. Io sono felice di essere alla inaugurazione della sede per due motivi essenziali. Il primo perché l'associazione nasce per volontà del mio amico Michele Montalbano, che ringrazio di cuore per l'invito ed è uno che sicuramente si spenderà molto in questa direzione. È un'associazione sociale, culturale e anche politica. Io sono onorato oggi di essere qui a questa inaugurazione perché ritengo che la nascita di un'associazione sia sempre un momento importante, nobile, che aiuta a garantire una partecipazione attiva dei nostri concittadini. E quindi ritengo che in un momento dove certamente ci sono tante emergenze, si sta cercando di affrontarle assieme all'amministrazione comunale, il fatto che nascano nuove associazioni all'interno delle quali ci sono tantissimi giovani, tantissime donne e tantissimi uomini che vogliono spendersi innanzitutto nella cultura e nel sociale sia un elemento positivo e sia in associazioni che vanno sostenute.